Oggi avrei voluto fare una doppia recensione, Zoe Electra assieme a Olivia Woods. Peccato che Olivia Woods sia arrivata con un viso che la fa sembrare praticamente un panda e quindi tornerà assolutamente indietro. Di conseguenza non ci resta che guardare assieme Zoe Electra in questo video tutto esclusivamente dedicato a lei. Ho deciso di cambiare questa Olivia Woods anche sotto consiglio dei ragazzi nel gruppo Telegram che effettivamente mi hanno fatto rendere conto che il suo trucco è davvero troppo pesante e non dovrebbe essere così. Quindi lei tornerà subito ad Amazon e spero che quella che arriverà in sostituzione sarà decisamente meglio. Ma eccoci qui con la scatola di Zoe Electra che è anche la nuovissima scatola che MGA utilizza per Shadow High e Rainbow High. Nella parte frontale abbiamo un'enorme vetrina trasparente che ci lascia vedere completamente la bambola all'interno. Qui in alto troviamo lo slogan della linea Let Your True Color Shine. Da questa parte invece c'è il suo nome con il suo simbolo Zoe Electra. Qui sul lato destro della vetrina c'è il logo Shadow High. E invece sul lato sinistro tutto olografico c'è un artwork molto stilizzato. Ci sono solamente i contorni del personaggio che abbiamo acquistato. Mi piace da morire come hanno deciso di disegnare questi artwork perché sono completamente olografici ma i visi sono tutti neri. E in più se guardiamo lo sfondo della scatola ma forse si noterà meglio una volta che avremo deboxato la bambola ma sullo sfondo della scatola c'è riproposto di nuovo lo stesso artwork ma in nero. Su un lato della scatola è comparso questo QR code che andiamo subitissimo a vedere a cosa ci porta. E ci porta sul sito Shadow High dove possiamo registrarsi per avere un regalo in omaggio. Vediamo. Quale sarà mai questo regalo in omaggio? Ok vogliono un sacco di cose quindi lo guarderò più tardi. E invece qui in basso ci dicono incontra gli studenti della Shadow High e credo che all'interno ci daranno delle informazioni sui personaggi. Sì praticamente accediamo al sito Shadow High con dei video, i vari personaggi qui sotto, possiamo vedere tutti i personaggi. Questa qui ho visto che è comparsa su Amazon. Magari se mi ricordo vi lascio il link qui sotto anche se costa una fucilata però è comparsa su Amazon. E varie informazioni quindi direi di continuare con la recensione. Un pochino più in alto sempre sul lato ci sono un sacco di informazioni che non ci interessano. E invece nella parte superiore troviamo il logo argentato di Zoe e c'è scritto Fashion Design Focus. In italiano riflettori sul design di moda. Chissà cosa mai vorrà dire. Sull'altro lato della scatola non c'è praticamente nulla. Invece sul retro di queste nuove scatole i personaggi sono tutti accoppiati. Non fanno vedere tutti gli artwork della linea ma solamente di due personaggi. In questo caso c'è tipo quella che per me è la più brutta. Nella parte in alto in argentato c'è il logo Shadow High e nella parte qui in basso sempre in argentato c'è una scritta tradotta anche in italiano che ci dice La moda non deve seguire regole non devono farlo nemmeno le Shadow High. Attenzione Rainbow High siamo pronte per la passerella. Ma adesso andiamo subito a deboxare Zoe perché sta guardando il pavimento da fin troppo tempo e perché voglio vederla fuori dalla scatola. Una volta deboxata all'interno della scatola vediamo l'artwork che abbiamo visto anche prima che vi dicevo prima ma non è l'unico perché ho scoperto che ce ne sono altri due che sono qui sull'altro lato e ragazzi sono davvero bellissimi. C'è questo qui più in alto e poi ce n'è un altro anche un pochino più in basso e sono davvero stupendi. La scatola è un po' un peccato l'hanno semplificata tantissimo però devo ammettere che è carina. Zoe invece appena deboxata si presenta così e è un po' troppo semplice anche se non è semplice adesso mi spiegherò meglio durante la recensione. Per prima cosa vi dico subito che ho già notato che la mia ha un piccolo difetto. Sì oggi è la giornata delle bambole con i difetti. Se vedete il trucco in quest'occhio è messo giusto la linea nera sotto l'occhio è giusta invece nel suo occhio sinistro la linea è un pochino più spessa e quindi si nota la differenza. Non me ne ero accorto quando l'ho acquistata, ormai l'ho deboxata e quindi me la terrò così. In ogni caso la sua pelle come vedete è completamente verde, un azzurro verde perché è ispirata alle Novi Stars, una linea di bambole di MJ che non ha avuto troppo successo ma che comunque era molto carina. Ed è proprio questo il motivo che mi ha fatto acquistare questa Zoe Electra. I suoi occhi sono castani ma un castano chiarissimo. Sopra gli occhi ha un'enorme linea di eyeliner molto bella che poi si collega anche nella parte inferiore dell'occhio che è quella che abbiamo appunto appena visto con il piccolo difetto. Sopra entrambi gli occhi ha un trucco molto particolare perché ha tutta questa sfumatura azzurra che parte dal centro dell'occhio praticamente all'attaccatura del naso e sale fino a toccare il sopracciglio con all'interno una linea di eyeliner grafico bianco e anche dei glitter azzurri. Sotto gli occhi invece ha un leggerissimo ombretto rosa. Le sue sopracciglia invece sono completamente dritte, ricordano un pochino le sopracciglia delle Lolo MG. Nella parte finale sono più definite e nella parte centrale invece sono sfumate con qualche peletto disegnato. Sulla fronte troviamo invece questi due pallini che sicuramente richiamano le Novi Stars, questi due cerchiolini bianchi. Sulle labbra ha un rossetto rosa con anche all'interno una leggera sfumatura viola e sulle guance indossa un leggero blush rosa. Sulla fronte si notano poco perché riflettono un sacco così li notate un po' meglio. Ci sono stampati e anche colorati dei baby hair e sono stati colorati con del colore argento. Carini anche perché sono molto delicati. E se invece saliamo a vedere i suoi capelli vediamo che tutta la parte frontale è raccolta in queste tre cacchettine, questi tre chignon. Sono tutti di questo verde acqua con anche però all'interno dei tinsel. Guardandoli dal retro si riesce sicuramente di più ad apprezzare sia il colore che la lunghezza. Sono davvero lunghissimi, le arrivano praticamente fino ai piedi e i tinsel devo dire che non sono troppo fastidiosi. A guardarli mi piacciono un sacco, come vedete sono super lucidi, i tinsel sono molto carini anche se questi qui sono quelli che andando a pettinarli purtroppo si rovineranno. I capelli anche appena uscita dalla scatola sono messi abbastanza bene anche se nelle due parti laterali, soprattutto in questa qui, sono un pochino croccanti. Non riesco proprio a capire perché mettere il gel sui capelli lisci è una cosa che non sopporto, sicuramente per far stare i capelli nella giusta posizione quando la bambola è in box, ma è bruttissimo poi quando andiamo a deboxarla, che fastidio. Su entrambe le orecchie porta questi orecchini identici ma speculari con la scritta piccolissima shadow eye in nero che però non riesco a capire cosa debbano rappresentare. Potrebbero sembrare dei proiettili, delle siringhe, non lo so, se voi lo sapete scrivetemelo qui sotto con un commentino. Invece scendendo a vedere quello che indossa notiamo che il suo outfit è composto da tre pezzi. Abbiamo la giacca, una t-shirt e una gonna. Io direi ovviamente di cominciare dalla giacca che è stata realizzata in un modo davvero meraviglioso, in un modo impeccabile. Il tessuto sembra veramente un tessuto spaziale, non saprei com'altro dirlo. Qui abbiamo ovviamente la cerniera con anche tutto il bordino con una stoffa doppia. Ci sono un sacco di tasche e sono tasche vere. Addirittura in questa qui hanno messo anche del velcro, così possiamo inserirci qualcosa e poi chiuderlo. Poi troviamo una tasca anche qui sotto, anche questa è una tasca vera. Ci sono anche attaccati dei nastrini bianchi, poi qui c'è questa specie di etichetta con scritto shadow stampato bianco su rosso. Anche sull'altro lato troviamo due tasche, una più in alto e una più in basso, sempre praticamente identica a quelle di prima. Ma la cosa bellissima è che come vedete ci sono un sacco di toppe. In questa c'è una luna con delle stelline, qui c'è un numero 22, qui sotto invece c'è questo gattino con le lette con scritto commander. Sulla manica invece troviamo una toppa con scritto shadow, che è praticamente un rifacimento di quella della NASA. Qui troviamo invece una strisciolina di tessuto olografico e qui un'altra toppa con scritto sessi. Da questa parte invece c'è una toppa con scritto eclipse, qui più in alto un'altra con scritto shadow e di nuovo sull'altra manica delle toppe ancora diverse un'altra con scritto shadow. Di nuovo il nastrino olografico e qui in basso invece una toppa con scritto novistars, proprio il logo della linea di quelle famose bambole. Ma le cose non sono finite perché qui all'altezza della vita c'è anche questa arricciatura come se ci si potesse infilare qualcosa all'interno, come se fosse tipo un portamartello mi verrebbe da dire. E invece sul retro c'è un'altra toppa triangolare con la scritta shadow e ragazzi tutte le toppe sono state ricamate. Questi sono tutti ricami, non sono semplicemente stampate. Qui in basso all'altezza della vita ci sono questi due elastici che possono essere tirati tramite queste specie di gancini che si possono schiacciare, che sono proprio a molla. E si può appunto tirare l'elastico per stringere un pochino la giacca. E in più nella parte in fondo c'è un altro elastico, sempre con i due fermagli che abbiamo appena visto e sempre con l'elastico e in questo caso è anche già stato arricciato. E come se non bastasse questa giacca è stata tutta completamente foderata ed è stata foderata anche all'interno delle maniche. Davvero wow! Quello che indossa sotto però è davvero tanto tanto più semplice. Infatti abbiamo questa t-shirt completamente bianca con stampata questa immagine di una Novi Stars con anche ovviamente il logo Novi Stars. È carino perché anche qui ci sono i bordini argentati olografici sulla stampa, però comunque risulta abbastanza semplice. Invece la gonna che è dello stesso identico colore della sua pelle ma proprio identico è realizzata in finta pelle con questi tre pezzi di stoffa cuciti assieme, molto semplicemente, ma con queste finte cinture applicate su entrambi i fianchi, tre per ogni fianco, con anche qui davanti il dettaglio di questa finta chiusura colorato d'argento. Se la gonna la guardiamo dal retro come vedete è proprio semplicissima. Sulle mani indossa uno smalto e le sue unghie sono leggermente più lunghe confronto a quelle classiche Rainbow High e lo smalto è verde. Ai piedi invece indossa delle calze con questo tessuto olografico e queste specie di ciabattine che non sono proprio bellissime, bianche e verdi, con davanti attaccato questo nastrino che crea questo fiocchettino ma dove su entrambi i cordini ci sono attaccate queste spine che sembrano proprio delle spine per la corrente. Anche la parte della zeppa è particolare, non so se vuole rappresentare qualcosa di specifico però devo dire che è molto carina anche se io preferisco le scarpe che arrivano almeno fino alla caviglia o almeno che siano chiuse sul tallone. La forma di questa scarpa non mi fa impazzire. Con lei arriva ovviamente il classico stand Shadow High con qui davanti il logo, trasparente con tutti questi glitter azzurri. L'aggancio è solamente uno, non ci sono adattatori. Poi con lei arrivano questi due appendini, uno con la scritta Shadow per le maglie e invece un altro con la scritta SH per pantaloni o gonne di questo color verde menta. Il solito pettinino Shadow High che è identico a quello delle Rainbow High, anche in questo caso con la stessa plastica dello stand quindi trasparente con i glitter azzurri. Poi troviamo questo che non so se è un bibitone o una bottiglietta spray o qualcosa del genere con il logo della NASA con scritto Shadow e anche la scritta Sassy con il tappo argentato e il resto tutto verde. Poi troviamo questo PC con nella parte esterna di nuovo il verde che abbiamo capito essere assolutamente il suo colore. Questi adesivi con scritto Commander che sono uguali alle toppe che c'erano sulla giacca. E poi se lo apriamo c'è ovviamente la tastiera e in più vediamo che lei sta lavorando probabilmente a un programma tipo Photoshop ad un'immagine di una Novi Stars simile a quella che aveva stampato sulla sua maglietta. Dettagli molto belli anche se avrei preferito un secondo outfit al posto di questi però comunque i dettagli non mancano. L'ultima cosa che arriva con lei è il suo smartphone sempre ovviamente con la scritta Novi Stars e lo stesso disegno che aveva sulla maglietta come sfondo del suo smartphone. Sul retro non c'è nulla se non le fotocamere perché arriva con la cover. È la prima volta che trovo una cover in una Rainbow High o Shadow High e devo dire che è fantastica perché il telefono si infila perfettamente, si incastra perfettamente. Lo rende molto più carino con queste lune e il logo Shadow High e in più qui sul lato come vedete c'è questo aggancio per farglielo tenere in mano. Questa è una cosa che mi piace tantissimo così possiamo finalmente far tenere in mano alla nostra bambola anche il telefono. E quindi questa era Zoe Electra con tutto quello che arriva assieme a lei. Che dire? È molto bella, ve la consiglio? Sì, perché no? L'unica cosa forse sì, sento la mancanza del secondo outfit. Gli accessori sono carini, il computer è carino, il telefono è carino, non capisco molto l'utilità degli appendini visto che il secondo outfit non c'è. La spazzolina e lo stand sono i soliti che troviamo sempre nelle Shadow High, per il resto però devo dire che è bella. La giacca è realizzata in un modo impeccabile, gli accessori sono appunto bellissimi, la t-shirt forse è un pochino troppo semplice e ripeto sì, avrei preferito un secondo outfit. Il viso comunque è molto bello, non è una Shadow High secondo me però è molto carina e quindi ragazzi se volete trovate il link in infobox. Quindi non riesco bene a capire perché abbiano scelto di togliere il secondo outfit, o meglio sì, ovviamente l'hanno tolto per risparmiare, però quello è davvero un peccato. Anche perché il prezzo non è molto basso, in questi giorni sono scontate da Toys del 25%, quindi se vi interessa potete correre ad acquistarla anche lì, oppure trovate comunque qui sotto, come vi ho appena detto, il link Amazon, che come sempre se acquistate dei miei link mi aiutate anche a sostenere il canale. Detto questo, ora voglio sapere cosa ne pensate voi di questa prima Shadow High in una nuova scatola e soprattutto di questa prima Shadow High senza il secondo look. Fatemelo sapere qui sotto con un commento che sono molto curioso e soprattutto fatemi sapere anche se questo video vi è piaciuto e vi è tornato utile, lasciando ovviamente qui sotto un like e iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto. Ovviamente vi ricordo che mi trovate su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.